Versate 120 grammi di farina setacciata in una ciotola 30 grammi di zucchero semolato 7 grammi di lievito in polvere per dolci Mezzo cucchiaino di sale, ovvero 5 grammi 25 grammi di burro E un uovo intero Aggiungo anche 10 ml di limoncello Se preferite potete anche aggiungere un altro liquore E grattugio la scorza di mezzo limone Impastate il tutto fino ad ottenere un composto migliore Omogeneo Grazie a tutti Coprite con pellicola e lasciate riposare in frigo per almeno mezz'ora Grazie a tutti Grazie a tutti Le castagnole in abbondante olio bollente Fino a quando non risulteranno ben dorate Grazie a tutti Per completare cospargete le castagnole con zucchero a velo Grazie per aver guardato il video Se vi è piaciuto lasciate un pollice in su E ai suiti vi auguro un buon carnevale E vi da appuntamento al prossimo video Non mancate Grazie a tutti